Nello schema di protocollo d'intesa per la gestione provvisoria della condotta sottomarina di Baia-Rena a Doiastro Marina firmata dal Comune di Castellabate e dal Comune di Monte Corrice nel giugno 2016, a seguito anche di un accordo di programma del 2010, si dichiarava che, vista l'urgenza del momento, estate 2016, si iniziava senza nessuna autorizzazione per gli scarichi, e questo valeva sia per gli scarichi degli impianti di depurazione di Castellabate e Monte Corrice nel sistema di collettamento che per lo scarico finale della condotta sottomarina, a mettere in risalto la situazione tramite richiesta protocollata al Comune di Castellabate e il consigliere di minoranza Luigi Maurano. Il decreto ambientale stabilisce che tutti gli scarichi devono essere autorizzati, sottolinea Maurano. Il decreto del Presidente della Repubblica, 59-2013, disciplina la funzione dell'AWA, autorizzazione unica ambientale, per gli scarichi delle acque depurate. A distanza di due anni e mezzo e tre stati, continua il consigliere, ho richiesto verbalmente agli uffici copia dell'autorizzazione unica ambientale per gli scarichi dei depuratori di Castellabate e per lo scarico finale della condotta. Mi è stato risposto che non c'era niente e che forse, solo ora, il gestore starebbe richiedendo tale autorizzazione. In più, mi è stato detto che per lo scarico finale si dovrebbe chiedere al Comune di Monte Corice. Ma come? Conclude Maurano. Il Comune di Castellabate è verso una quota percentuale di gestione dell'88,24% e non sa nulla. E poi, in questi tre anni, con quale autorizzazione e controllo si è provveduto allo scarico dei depuratori?